Ricordate questo pezzo dei Metallica? Per chi ama il genere naturalmente, Nothing Else Matters, che è un tormentone se si fanno lezioni di chitarra. Nel 2009 una ragazza di buona famiglia, Morgan Harrington, 20 anni, si rega quindi con gli amici al concerto dei Metallica all'arena di Charlottesville in Virginia. Ha prenotato il biglietto da tanto tempo e affermano i genitori che questo biglietto era appeso al muro con una calamita in modo che la ragazza non potesse mai dimenticarsi di questo fatale appuntamento. sirene che ci danno il benvenuto. Era veramente una fan dei Metallica, una fanatica dei Metallica, questo gruppo che piace molto a tanti di noi, un po' di tutte le età, perché oggi Morgan avrebbe 34 anni, quindi ha abbracciato un sacco di generazioni questa band. Quella sera infatti lei va con gli amici. Probabilmente viene trasportata da altri perché non è chiaro se abbia o meno una vettura propria. Entra, felice, euforica. Poi a un certo punto dice agli amici che deve andare a far pipì. esce, si indirizza verso i bagni ma non torna più. Chiama al cellulare un'amica o un amico e dice che si è persa e a causa della disposizione dei corridoi, delle transenne, è finita fuori dall'anfiteatro e non la fanno più rientrare perché questa è la regola. Da quel momento non si avranno più notizie di lei. La si cerca per un po' e si ricaveranno delle testimonianze da cui si desume che a un certo punto era in compagnia di alcuni ragazzi. Chi la segnala la descrive bene con questa minibonna, gli stivali, un abbigliamento appunto un po' metal. I genitori sono ovviamente molto demoralizzati come in questi casi. Un genitore è, la fanno cercare, non la trovano. Ma dopo qualche mese un contadino, il solito contadino in queste storie americane spesso il contadino col trattore aria e inciampa, incappa, in dei resti. L'esame del DNA e alcuni oggetti ritrovati, la borsa, eccetera, porteranno proprio a Morgan e poi al suo assassino. Ora non staremo qui ad analizzare la vicenda perché quello che interessa soprattutto è come le vicende vengono raccontate mediaticamente. Gli hanno fatto scuola e anche qui, soprattutto in Italia, siamo dei caldi adepti perché in altre nazioni non hanno tutta questa carogna nell'esaminare i casi di cronaca. Forse noi italiani in questo siamo un po' accesi. Ma è chiaro che le cose non possono essere andate così. E perché? Perché gli amici commettono gli stessi peccatucci della persona che sparisce e non hanno alcun interesse ad andare a casa a dire che magari commettono certe marachelle. Quindi iniziano tutti a dire ma non ne sappiamo niente, ci è sfuggita, se n'è andata, non l'abbiamo più vista, eccetera. La ragazza aveva un'automobile. Se l'aveva non faceva altro che prendere l'automobile e purtroppo tornarsene a casa con le pive nel sacco perché non era riuscita ad assistere al concerto della sua band di letta. Ma invece no. Perché la trovano in un campo dove l'avrebbe fatta fuori o insomma nei dintorni questo seriale o mezzo seriale non si è capito un afroamericano. In che modo? Evidentemente lei era andata a cercare qualcosa che ha trovato o non ha trovato? È stata vittima di un'imboscata? Forse il concerto poteva essere una scusa e lei aveva intenzione di fare dell'altro? O ancora con lei c'era qualcuno? Lei ha fatto da battistrada per alcuni dei suoi amici e poi non è più tornata indietro? Allora le vicende non sono come ce le raccontano. Le raccontano come in un film, tagliano delle parti che possono non essere interessanti e soprattutto saltano a pie pari certi aspetti della vita della vittima. Se si vuole la verità bisogna conoscerli, altrimenti è soltanto un romanzo che ci hanno raccontato. Ciao, alla prossima!